ciao a tutti ragazzi io sono claus bentornati in un nuovo video di guent oggi la pace uscita da non tantissimo diciamo ora che sto registrando saranno neanche 48 ore quindi diciamo che questa questo è un video che però va preso con le pinze nel senso io vi porto quella che è la mia diciamo idea iniziale di questa nuova patch devo dirvi la verità tante cose sono forti quello che vi posso preannunciare che mostri è comunque avuto un grandissimo buff quello che vi posso preannunciare che scoiat è diventata molto forte e tendenzialmente anche skellige è risalita molto soprattutto svalblood ovviamente non vedrete ancora chissà quante liste in giro perché la gente sta testando bisogna fare testing quando esce una nuova patch di questo tipo i content creator barra gli streamer barra chiunque insomma vada a preparare dei deck ha bisogno di fare testing e con testing intendo 50 60 partite con un mazzo e capire di volta in volta cosa cambiare a seconda di quello che si trova chiaramente quindi portate pazienza per almeno i primi 15 giorni le liste che troverete in giro con prese anche quelle che vi porto io saranno probabilmente liste che nel futuro andranno a essere rifinite però nel mentre potremo comunque andare ad analizzare una prima stesura oggi vi porto un mazzo mostri di nuovo perché non vedo l'ora di cominciare a spammare video sui mazzi mostri anche per il fatto che cercherò ovviamente di dare diciamo varietà ai video domenicali ma durante lo streaming vi ricordo che proveremo insieme tantissimi deck da lunedì a venerdì alle 14.30 barra 21 quindi oggi vi porto quella che è la primissima versione della mia idea di Detlaf che però non è l'unica perché tra i deck montati ne ho altri due di Detlaf poi ne ho un altro dell'Anseen Elder e ne monteremo insieme in streaming qualcuno nei prossimi giorni quindi questo che vi porto oggi è quello più divertente non so dirvi se tra i tre sia il più forte forse sì forse no vi dico che non è facilissimo da usare questo deck ma per guardare tutti i diciamo le varie versioni che sto pensando di Detlaf ricordate lunedì si riparte con lo streaming alle 14.30 ora parliamo di questo deck finalmente che è già sproloqui infiniti da due ore dunque il leader è Detlaf abbiamo da un attimo guardare leader perché ha cambiato non fa più le bombine da un danno adesso fa infligge sanguinamento a un'unità nemica per tre turni con tre charge la differenza è che dopo aver usato tre charge abbiamo un Ekima su una fila casuale allora la value di questo leader è estremamente alta ok? perché è un leader che dà 11 punti puri perché sono 9 punti di bleeding e 2 di Ekima ok? assurdo veramente molto forte in più va a sinergizzare con la mia carta preferita di Crimson Kurs che finalmente posso usare ma mo ci arriviamo allora partiamo dal dire Royal Decree Royal Decree perché Royal Decree? semplicemente perché per quanto Naglafar sia effettivamente una carta molto forte Naglafar è forte perché? perché rispetto a questa ti permette di prendere carte oro che non siano unità quindi non è necessariamente peggio di Decreto Reale soprattutto visto che noi giochiamo diverse carte speciali oro in questo mazzo la differenza qual è? che più che avere la sicurezza di prendere la carta speciale in questa lista ci serve la certezza di prendere una di tre carte sostanzialmente che sono Orianna perché è la nostra finisher principale o comunque è il nostro motore di punti principale Geralt in matchup tipo Aracas Queen o Reveal Nilfgaard o Reveal qualunque cosa che a volte è necessario e a scelta o la terza cron o il katakan perché il katakan è l'attivatore principale nostro della Crimson Course ma ci arriviamo poi dopo con la strategia intanto terra dalle mille fiabe carta costosa ma estremamente buona perché dice che giochi una carta speciale dal deck quindi ci dà la garanzia di tutorare sia il Decreto Reale per tutorare un'unità sia la maledizione cremisi per attivare la nostra meccanica a lungo termine qualora non dovesse essere così perché abbiamo già tutte e due abbiamo i nostri pick d'emergenza che sono Parassita e Doppio Banchetto poi ci arriviamo perché comunque già Doppio Banchetto so che molti di voi storceranno il naso ma ci arriviamo poi Geralt ovviamente Toll Removal nonostante il nerf con deck come Scoiatel si sente il nerf perché non si può più rimuovere alle brutte la quercia da 8 contro altre cose no perché contro i target principali di questa carta che sono Glastivurp e Reveal Nilfgaard in generale e Big Monster che secondo me prima o poi tornerà molto prima che poi effettivamente target ne ha è vero che non può più uccidere i Grifoni però uccide i Gowl uccide Ozra uccide Spiritip uccide Goliath e bla bla quindi in realtà contro certi deck non trova target contro altre cose sì il nerf principale di questa carta è stato dovuto al fatto che così non può più uccidere Sciupe da 8 questa è la cosa che vi darà più fastidio in assoluto quando giocate qualsiasi deck con Geralt vi assicuro però è comunque una necessità è molto più situazionale di prima ma è comunque una necessità a mio giudizio però si può anche non giocare volendo prima che me lo chiediate il sostituto principale di Geralt sono due o mettete Cleaver mannaia quello che spara danni secondo quante carte avete in mano o mettete Rutilia poi diciamo così eventuali cambi immediati in corsa poi ci arriviamo Maledizione Cremisi ovviamente è diciamo il motivo per cui ho deciso di giocare il mazzo come lo sto giocando perché effettivamente adesso secondo me è giocabile è molto suscettibile a conoscenza da parte dell'avversario nel senso che se dovesse entrare in meta questa carta l'avversario comincia a blindarvi perché più o meno annusa che voi potete giocare questa carta ma affinché c'è l'effetto sorpresa è tutto a posto cosa dice? dice che distrugge un'unità alleata e poi applica l'effetto Luna Rossa su entrambe le file alleate Luna Rossa dice che all'inizio di ogni turno nostro potenzia di due un vampiro casuale nella nostra fila ovviamente sendo che la applica su entrambe le file la maledizione cremisi verrà applicata su entrambe le file quindi avremo un più 4 a inizio turno quindi per recuperare il valore di costo della maledizione cremisi virtualmente basterà baffare vampiri due volte quindi noi possiamo anche spaccare una 4 ciò nonostante che ne abbiamo diverse il nostro target principale sarà Katakan se Katakan non è nelle vicinanze diciamo non è in zona lo attiveremo su 4 o 5 body possiamo anche attivarlo su una delle crone senza problemi perché comunque non sono vampiri e vanno a recuperare il body nel giro di due tick ok poi Katakan ovviamente non ha bisogno di per sé di presentazioni è una carta molto giocata l'unica cosa che in questo deck ha l'utilità di essere il principale target per la course tutto lì poi Orianna finalmente la mia carta preferita mio dio allora Orianna dice schieramento infligge sanguinamento a un'unità nemica pari alla durata del numero di unità vampiro alleate ok non contando se stessa quindi se noi abbiamo 3 vampiri metteremo un bleeding da 3 quindi sarebbe già una 7 per 9 ipoteticamente in più dice che ogni turno alleato alla fine se la mettiamo dietro si potenzia di un valore pari al numero di unità nemiche affette da sanguinamento quindi capite che se noi usiamo 3 charge di Detlaf ok mettiamo 3 bleeding a un target entra Lekima che è un vampiro usiamo Orianna dietro già da sola Orianna ha 4 target che bleedano per 3 più 1 turni quindi Orianna prende 3, 6, 9, 10 14 15 punti value da sola a costo 9 ok in più dando per buono che giochiamo una tonnellata di vampiri probabilmente ne metterà ben più di un punto bleeding visto che insomma giochiamo una tonnellata di vampiri questa è la nostra finisher principale che non va usata come ultima giocata quasi mai a parte in caso magari il nostro avversario possa avere un Geralt in risposta subito dopo diciamo che va usata come penultimo terzo ultima giocata se siete sicuri che l'avversario non ve la possa rimuovere la potete anche giocare virtualmente a 4-5 carte left in modo da mandarla più di 7 e evitare che qualunque removal ve la trombi istantaneamente e poi io ho finito partite tra ieri e oggi in cui Orianna era diventata una 18-19 c'è una roba enorme più oltre al suo 18-19 di body altrettanti punti rilevati alla bordo e quindi senso con i bleeding eccetera poi proto-fledger danneggia di 3 un'unità nemica dominazione prosciuga di 3 è un vampiro effetto forte nel senso che è una 10x9 come doveva essere inizialmente la dominance in questo deck abbiamo qualche trick per tenerla è meno facile di altri massi mostri riuscire ad ottenere la dominance soprattutto quando giochiamo contro Nilfgaard o Scoiatel ma ce la dovremmo fare perché noi giochiamo comunque andiamo a vedere le crons e le crons bruess può essere utilizzata per mantenere la dominance giochiamo il parassita e il banchetto ok queste sono le nostre chiavi di volta per mantenere la dominance e attivare le nostre dominance poi andiamo avanti le 3 crons non ve le sto neanche spiegare perché penso siano abbastanza intuitive wispess che è diciamo quella di removal viene utilizzata unicamente non per i punti flat come viene spesso utilizzata da 6 ma spesso la utilizzeremo da 4 per andare a rimuovere engine fastidiose perché punti ne facciamo una caterva tra bleeding oriana e quant'altro quindi in realtà wispess è più una sorta di donor in questo deck nel senso che è più uno botto da 4 se servisse sparare da 6 perché magari abbiamo contro un botchling hockvist e bla bla allora ok però di base spesso diciamo l'80% delle volte la utilizzeremo come botto a 4 perché utilizzeremo weaves invece per andare a difendere le nostre engine piccoline qualora dovesse servire poi po 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 cosa manca dove siamo arrivati regina della notte regina della notte è un'altra carta molto forte è un body 5 infligge sanguinamento 4 a un nemico quindi già di base è una 9 per 7 ok mi sembra più che oltretutto è vampiro mi sembra più che doveroso inserirla e nelle retrovie invece fa purify sull'unità non sempre serve a volte si può levare un blocco può levare una taglia vedremo di norma io principalmente la uso per sanguinare ma è capitato uno o due volte di sbloccare il necurat poi diciamo che in linea generale il target principale da purificare in realtà sarebbe il necurat perché fornisce più di 4 se in un turno lungo ovviamente riesce a snobollare poi gael gael è una carta che finalmente possiamo giocare dice schieramento prima fila danneggia di 3 un'unità nemica se questa è affetta da sanguinamento altrimenti la danneggia di 2 e di 1 se facciamo un deathblow si potenzia di 1 in base al valore della forza base è una specie di di gregoire virtualmente più forte virtualmente più situazionale nel senso noi non possiamo contare su shillard e sulle spie da 1 come fa nilfgaard per attivare gregoire però ovviamente danneggiare un'unità da 3 cioè sanguinamento ne mettiamo una miliardata quindi attivare anche questa carta non è molto difficile perché già solo che attiviamo questo effetto su una carta con un body 4 vuol dire che noi abbiamo una 7 costo che spara cioè 4 più 3 7 di sparo più si potenzia del body che va a prendere quindi va a diventare una 11 quindi è una 11 per 7 solo usandola su una 4 quindi è molto buona questa carta io mi sono trovato veramente bene a provare questa carta devo dire la verità inizialmente ho detto vabbè la metto perché è un vampiro vediamo se e invece mi è girata benissimo oltretutto contro diciamo scoiat e il nilfgaard cioè non ci sono fazioni che non hanno target con body 4 o più sostanzialmente ma usarla su una 3 non è stata tragedia quindi non vi preoccupate poi parassite ovviamente carta d'utilissima solida 6x6 removalo o no e barra ci aiuta a mantenere la dominance e a difendere in ecurat anche poi nitral perché giochiamo nitral solo per due carte in generale allora noi giochiamo nitral principalmente perché ci risolve tantissimo il match up contro aracas queen tanto proprio tanto ma in generale tutti i deck che hanno summon in circle prendersi un nitral nei denti che fa 5 più 4 value vi giuro che non dico che basta vincere il game perché vi direi una bugia però da una spinta pazzesca oltretutto nitral è una body 5 quindi è un buon target dopo aver utilizzato l'effetto per eventualmente diciamo usare la crimson curse vi dico una cosa nitral non è forte solo perché spacca il manufatto nel senso se noi spacchiamo un summon in circle o un cazzo che so un frightener ok è figo ma se siamo contro skellige che ha già attivato lo svalbolo totem e comunque facciamo una giocata da 5 con i 4 danni e gli spacchiamo il totem a prescindere da sti cazzi se poi in realtà non ha rimosso un manufatto cioè il fatto che spacca il manufatto e fa i 2 danni comunque è una 9 per 6 quindi che noi ci possiamo levare la terra delle mille fiabe la spada il totem svalbolo cioè in realtà è forte questa carta capite quello che vi voglio dire e ora veniamo al banchetto perché il banchetto invece magari di fulmine invece magari di allora premettendo che in realtà di lista voi potete cambiare un banchetto per metterci un altro remove alla 5 ok io ho giocato il banchetto per un motivo perché spesso mi è capitato che contro Nilfgaard mi risolve tantissimo la partita perché noi con queste possiamo levare gli scorpioni di fuoco e allo stesso tempo manteniamo la dominance con un tick di bleeding più una di queste possiamo levare la spada cina elfa e un sacco di altre cose quindi onestamente trovo che questa carta sia estremamente buona nel suo essere una 6 per 5 oltretutto grazie all'effetto bleeding non necessariamente ci serve un removal diretto però in particolare in matchup possiamo sentire la mancanza di un removal un po' più incisivo quindi sacrificeremo 1 o 2 punti value per levare un banchetto e metterci o il tuono o questa bomba o quest'altra bomba a seconda di quello che trovate un altro cambio ipotetico potrebbe essere mettere una di questi ma poche volte è risultato essere effettivamente utile ok perché l'avversario nonostante tutto fa tanto play around su sta carta non so perché perciò queste sono diciamo le alternative poi alp allora alp è una 5 per 5 devo dirvi la verità questa carta è in prova perché è forte solo effettivamente se abbiamo luna rossa in campo altrimenti è una carta mediocre il discorso è che se abbiamo luna rossa invece alp gioca per 7 a costo 5 quindi è molto buona quindi passa dal diventare una carta mediocre a diventare un'ottima carta ok quindi semplicemente questo potete rimuovere alp con un'altra carta da 5 tra quelle dei removal che vi ho diciamo detto poco fa se se il meta ce lo permetterà leveremo un alp e leveremo un banchetto per mettere due di questi a fare tinning non ne sento molto la necessità in quanto spesso con tutti i tutor che abbiamo riusciamo ad arrivare a quello che vogliamo però per adesso diciamo che possiamo se non vi piace l'alp levare l'alp e metterci un removal diretto ma è in prova è in prova non vi so dalle giudizie a volte è tornata utile a volte no poi necurat questa è una delle carte più forti se tenuta viva diciamo che il necurat è il lekimara number 2 solo che mentre lekimara il kikimora lì come cazzo si chiama è una carta principalmente da aracas queen e come si chiama e gernicora questa è una carta principalmente da detlaf ma anche da anzi nel in realtà comunque principalmente da detlaf perché dice ordine fervore prima fila infligge sanguinamente un'unità nemica per due turni con recupero due quindi già una 5x5 appena entra in più ogni volta che noi giochiamo una carta vampiro riduce di uno il cooldown di questa abilità quindi cosa vuol dire che questa qui è la spadagina elfica per i mostri virtualmente più forte perché la value che ci dà anche se ha bisogno di un round più lungo è più alta se questa carta viene lasciata indisturbata a round 3 insieme a Dorian snowballano da sole la partita con snowball non vuol dire dominano fanno disastri da soli ok poi garkain questa qui è una carta estremamente forte è una nuova aggiunta a 4 dei mostri allora qualcuno di voi che starà guardando questa lista starà già pensando a un'altra carta di cui adesso parlerò allora intanto garkain alla fine di ogni turno alleato si potenzia di 1 se c'è un nemico affetto da sanguinamento quindi virtualmente questa carta può arrivare a prendere tra la media è tra i 4 e i 5 quindi già è una 8 per 4 insomma ma se dovesse per sbaglio rimanere viva questa carta può anche prendere più 9 in un turno quindi è buona nel senso è una sorta di magni di vision di mostri ecco per farvi un esempio plumard classica carta standard di bleeding niente da aggiungere e bruxa anche questa visto il cambiamento che gli hanno fatto che ha prosperità di base col fatto che inflige sanguinamento e non più danni sinergizza perfettamente col nostro deck visto che mentre plumard è una 6 barra 8 per 4 bruxa sono 2 e 5 diciamo sull'immediato quindi meno del secondo plumard ma la prosperità che procca 1 o 2 volte dà valio sufficiente a questa carta oltretutto è un buon bait per il remove all'avversario ora ci sono due carte che qualcuno di voi avrà già pensato di inserire una è questa perché comunque al posto di che ne so io dell'alp mettere uno di questi e upgradeare una carta buona ci potrebbe stare potremmo levare l'alp mettere un tagliagole e sostituire magari con una carta da il problema è che non saprei cosa levare potremmo levare un banchetto l'alp mettere questa e mettere una carta da 6 che può essere anche il sangreal per difendere può essere anche il principe Willem può essere cioè il problema è che andiamo un pochino a sconvolgere quello che è poi l'equilibrio del deck quindi anche per questo non me la sono sentita di farlo i tagliagole sono presenti nella lista senza luna rossa questo ve lo preannuncio già sostanzialmente questo è il punto l'altra carta di cui effettivamente potete sentire il e dite cavolo ma se io al posto di qualcosa ci metto delle altre unità da 4 che non hanno schieramento magari levo le bruxa e ci metto il portale è un'opzione però io trovo che queste carte bronzo siano sinergicamente troppo forti per il deck per sacrificare e metterci magari due werewolf e mettere il portale semplicemente per quello si può provare bisogna comunque fare dei testing io mi sono trovato veramente bene per adesso con questa lista sono all'inizio del testing e sono a mi sembra non vorrei dire una cazzata ma mi pare 11-3 o 11-4 quindi un ottimo punteggio oltretutto parlando di un deck che è ancora in prova e diciamo in testing nel prototipo quindi si può sicuramente forse ritunare però non so dirvi se ripeto questa versione sia più o meno forte di quella senza luna rossa sto ancora facendo dei test vi dico però semplicemente che li proveremo entrambi in streaming io ho deciso di portarvi questo perché è molto molto divertente allora non so dirvi quanto tier ha questo deck devo dirvi la verità potrebbe essere tier 0 come tier C non lo so perché comunque è da testare vi dico che per adesso l'unico matchup con cui ho veramente fatto fatica è Aracas Queen che non ce ne sono tanti la counter che diciamo i due counter principali di questo deck a mio giudizio tra quello che è diciamo la mia esperienza adesso sono Aracas Queen perché purtroppo quando muoiono le unità bleedate gli danno comunque ragnetto quindi è più difficile andare ad applicare i bleeding però Nitral risolve molto di quel matchup e Francesca con le acque di Brokylon in assoluto il matchup con cui ho fatto più fatica perché di Red Coin siamo costretti no scusatemi di Blue Coin siamo costretti a give up a round 1 una certa perché se lui decide di vincere round 1 a carte pari committando cose può farlo e poi se ancora l'opower a round 2 rigioca l'acqua e rischiamo di non acchiapparlo più sostanzialmente questo quindi quello è il matchup più difficile vi dico contro Svalblood per esempio che sarà un'altra grande solida lista del meta è un po' 50-50 a volte ho vinto a volte no nel senso tutto dipende da quello che usa lui nel round 1 contro Svalblood entra se no diventa un disastro ok e quindi ecco questo è quello che era questa lista una lista di cui sono abbastanza entusiasta nel senso che sta girando bene poi bisogna vedere nel corso del mese come performa sono contento comunque che mostri scogliate alle schelligi siano di nuovo tornati giocabili perché questo gioco ha bisogno di equilibrio tra le varie fazioni nessuno pretende che tutti i leader siano forti allo stesso modo ma che ogni fazione abbia più di una lista viabile quello si perché altrimenti diventa un gioco monotono e soprattutto finisce in quel circolo dei giochi di carte in cui si entra nel sasso carta forbici ok e vi lascio adesso come al solito con le due partite dimostrative fatemi sapere qui sotto nei commenti quello che ne pensate insomma come vi state trovando con sta lista se secondo voi qualcosa andrebbe sostituito sono assolutamente aperto ad ogni tipo di suggerimento se il video vi è piaciuto e la serie di guent che vi piaccio eh che vi piaccio cosa sto dicendo la serie di guent che vi porto vi piace vi invito a lasciare un like qui sotto al video iscrivervi al canale per aiutarmi a crescere e farvi trovare in streaming dal lunedì alle 14.30 come sapete ripeto ancora sempre come al solito perché non tutti guardano tutti i video durante la settimana io quei turni di lavoro non so sempre se mi danno anche il pomeriggio da fare quindi non so se effettivamente alle 14.30 ci sarò però iscrivetevi al canale telegram e iscrivetevi alla pagina cioè mettete mi piace alla pagina facebook trovate i link qua sotto in descrizione e quindi vi lascio appunto con le due partite e ci vediamo nel prossimo video o lunedì in streaming ciao donna che fighe che sono queste nuove animazioni cioè sto gioco solo per sta roba qui dovrebbe avere molto più seguito comunque allora siamo contro Eithne Eithne di base non è un matchup che conosciamo in questo momento perché una volta vi avrei detto può essere sciupo scorcia adesso probabilmente è un elfi quindi lui ha molte cose per levare le nostre piccole engine tipo questa potrebbe avere la magia degli elfi quella che spara 3 e evoca il dead eye sulla sua fila quindi questa non avrà eccessiva value però noi possiamo baitarne almeno una con una di queste quindi come possiamo partire abbiamo diversi bleeding effect tuttavia forse questa la possiamo malligare questa pure vabbè non poteva andare seriamente peggio certo poteva andare seriamente meglio ma diciamo che non è così male comunque una 6 ok questa è accettabile per il momento quindi quello che noi faremo è semplicemente buttarci sopra il bleeding perché poi possiamo executarla di gail ma bisogna vedere se riusciamo a baitare la magia degli elfi che evoca il dead eye ok palo diciamo a questo punto direi che potremmo fare gail in questo spot in quanto effettivamente è un ottimo target da rimuovere soprattutto perché di blue coin forse non possiamo essere troppo diciamo nasino fine quindi in realtà gail qua mi piace perché comunque è una carta che per quanto è vero che usata a turno 3 può effettivamente rendere molto di più usata a round 1 quando hai la certezza di avere target ti dà comunque una bella spintarella tutto sommato quindi non penso di diciamo di essere in errore qui a usare gail ora non abbiamo idea se sia un nano se sia un elfi o meno quindi per ora ci limitiamo a fare così diamo il più 5 qua per evitare sempre di essere ucciso dalla magia elfica nuova cioè nuova revolcata che non mi ricordo come si chiama perciò non ve lo dirò onestamente non mi ricordo come si chiama comunque qua siamo in un gran bello spot noi possiamo continuare a usare solamente le nostre carte bronzo e continuare a stare avanti per un bel po' abbiamo questa che non credo serva ma non si sa mai anche solo per i 4 danni di value che può portare tutto sommato non è male da come sta giocando sembra più uno scorch che non un elf swarm all'effettivo ma alla pratica noi non lo sappiamo quindi per ora ci limitiamo a mettere uno di questi non vorrei andare a round troppo lungo contro Eithne a essere onesti d'altra parte il suo play around cioè nel senso il suo scorch può essere molto buono ma difficile da inserire nel senso se gli entra bene magari su unità 5 a 6 viene un gran bello scorch d'altra parte noi abbiamo modo di fare play around con la luna rossa se dovessimo riuscire a aiutare la luna rossa chiaramente che non mi sembra questo caso va bene abbiamo noi la dominance si quindi possiamo utilizzare questa sempre per il discorso scorch questa va a 7 quindi right now è ancora accettabile se comunque lui dovesse giocare a scorch a round 1 noi carte per continuare a giocare ne abbiamo ma soprattutto abbiamo la possibilità di giocare un po' più tranquilli a round 3 ok adesso bisogna effettivamente pensare se bliddarla o meno noi siamo un mazzo che sostanzialmente preferisce il round lungo e su questo un già piove però d'altra parte bisogna anche vedere Geralt non credo che trovi target perché non essendo che spacca più le 8 sulla quercia non lo possiamo usare e la sua unità più grossa sarà probabilmente il drago immune quindi lo possiamo cavare è una gran bella mano da round 3 onestamente quindi non penso che sia il caso di bliddare quello che mi fa un po' paura è che non abbiamo pescato né Orianna né la terra delle mille fiabe né il decreto reale né la luna rossa diretta ok abbiamo pescato la terra quindi questa è difficile da difendere contro Scoia è abbastanza improbabile da difendere onestamente questa non serve adesso ok in un modo o nell'altro abbiamo trovato anche Orianna quindi diciamo che è ok dunque per quanto riguarda questa signora invece possiamo pensare di iniziare a sviluppare questa direi dietro perché abbiamo comunque la Night Queen davanti da mettere che ci mancano target e volendo c'è anche questa 4 non so perché spari lì sopra sinceramente ecco queste cose qua sono ah ok vabbè ha senso ha senso così però non so non so neanche quanto abbia senso perché vabbè ok non mi piace la giocata che ha fatto cioè nonostante gli è andata anche benino quindi facciamo così e gli rimuoviamo questa che effettivamente è l'unico target che al di là dei 4 danni possiamo rimuovere poi trovare un target da 6 contro quella roba lì se non è Isengrim per il quale comunque alle brutte brutte possiamo andare a prendere il il parassita non ci sono grosse cose ottimo quindi mettiamo questa davanti chiaramente facciamo così adesso noi possiamo fare la night queen sul prossimo target e poi fare luna rossa da 4 turni su quella roba oppure no anche no mi piace di più il no sta uccidendo i vampiri non è sbagliato assolutamente a questo punto noi facciamo così visto che tanto l'altro non c'è più quindi abbiamo un completing da 2 niente di eccezionale ma comunque discreto penso che con la terra dalle mille fiabe sono sempre più tentato di prendere il parasite a questo punto ma il problema è che a noi servono comunque almeno 4 turni per far wartare quella luna rossa mi ne è andata no mi basterebbero 2 in teoria ma ok era proprio l'agguato la magia di tu parlavo prima che proprio non mi veniva in niente comunque mettiamo questa signora qui davanti e poi possiamo giocare le di oriana a questo punto la luna rossa in questo particolare match up effettivamente non è molto worth anche perchè sta rimuovendo tutti i vampiri dalla bordo perchè mi sembra meno scemo di quello che pensa l'ersilla quindi lui sta giustamente giocando intorno alle di oriana direi che avendo ancora una charge di questa proviamo a bettare qualcosa qua sopra e comunque è vero che lui può fare scorce cose ma noi comunque non siamo messi malino dai qua può fare uno scorce da 10 che comunque non è affatto male noi comunque recuperiamo un punto la sopra quindi ok a questo punto possiamo sviluppare probabilmente oriana è comunque meglio perchè comunque prendiamo un più 2 qua c'è un più 1 qua e non è male possiamo anche considerare di utilizzare una charge nonostante sia buttata per prendere il più 1 visto che comunque ha poche carte in mano e difficilmente riusciremo ad utilizzarle entrambe portando la 6 abbiamo anche la possibilità che con un eventuale l'unico è milen che può tirarla via con milen più S se no deve usare tutte e due le charge questo lo mette in una bad position perchè lui virtualmente ha 0 punti sulla board al momento io purtroppo ho questa che non me ne faccio niente al momento quindi deve giocare un body il bomber qui se no è un casino danneggia di 3 certo vabbè direi che comunque questo rian ha wartato abbastanza cose un po' senno di poi lui ha board vuota quindi possiamo in effetti fare così perchè lui in mano che cos'ha 6 synthesis e ah quella signorazza lì si ok noi adesso lo facciamo mettiamo doppio bleeding qua sopra per forza e come special abbiamo un parassita da tirare su questa 8 lui non può fare igni qua sopra quindi ok facciamo così cioè non su questa 8 vuol dire su questa 2 per fare andare a 8 non ci sono target su cui fare igni lo scorce l'ha già tirato lo scorce singolo non gli serve a nulla quindi basically ok la quercia la quercia è una carta che al momento non gli serve perchè noi siamo bene avanti e possiamo semplicemente fare abbiamo fatto un buon play around qua lo scorce ottimo direi che ce la siamo giocata egregiamente aracas queen questo potrebbe virtualmente essere uno dei nostri peggior match up perchè purtroppo il bleeding si attiva alla fine del suo turno quindi gli poppano ragnetti quindi dobbiamo usare i bleeding non per uccidere ma per altre cose quindi questa la leviamo noi serve trovare ah no abbiamo già il banchetto per evitare di farci snowballare di di kikimari questa è carina questo non troppispa in realtà non è che non serve però in realtà è questa che adesso non serve ok target d'emergenza ovviamente per la per questa ce ne sono più di uno quindi non è un problema e vediamo dunque qua in realtà essere di red coin ci permette di gestire meglio il bleed senza dubbio il problema è che lui può spingere molto ma non mi sembra questo il caso anche perchè noi possiamo contare su neutral nel deck quindi quando la situazione lo necessita abbiamo neutral ora possiamo semplicemente solo sviluppare questa perché purtroppo non abbiamo potevamo mettere questa ma avendo noi la red moon in mano proveremo a usarla round 3 proveremo bisogna vedere se è uno unit terakas se è uno swarm che cavolo è vediamo vediamo in realtà una cosa su cui bisogna riflettere è se lui effettivamente gioca al summon in circle perchè non tutti i deck giocano al summon in circle però c'è da dire che se noi vinciamo a even in round 1 utilizzando effettivamente neutral su quella fare lì su sta 12 allora possiamo pensare di bledarlo a round 2 ok sembrerebbe essere uno unit a disposizione vabbè purtroppo possiamo mettere questa scusatemi ancora per un e quindi ecco grifone un'altra di quelle ah oppure il troll va bene va bene direi che at this point possiamo fare così semplicemente non abbiamo fredda adesso è vero che rimuovendo quella quell'artefatto ora eh no gli otteniamo l'attivazione cioè gli evitavamo l'attivazione non è questa tragedia lui adesso vuole uscire dal round chiaramente bene ok noi però vogliamo avere l'ast 6 con Geralt right quindi possiamo fare così intanto prendiamo altri due pure qui forse ha paura un po' di perdere round 1 però con una spinta del genere dovrebbe ripassare ottimo quindi possiamo giocare questa carta qui e dunque questa sono 7 il dominance contro di lui non ce l'avremmo mai ma proprio mai a noi interessa molto avere l'ast 6 adesso vediamo se riusciamo a hittare la terra davanti le fiabe oppure no light queen è ottima questa non tanto oh beh poteva andare peggio allora questa la leviamo intanto nitra lo teniamo assolutamente red moon però adesso la teniamo tanto abbiamo dei maligan dopo da effettuare quindi non c'è tutta sta fette gli abbiamo preso uno dei manufatti adesso dobbiamo prenderci dopo il summon in circle con nitra le siamo a posto che giochi quella non me l'aspettavo onestamente chissà perché probabilmente perché gioca portale e quindi invece che giocare i foglet da uno gioca due lupi e due kikimora non è male allora abbiamo questa che va nel deck per forza questa pure già meglio abbiamo la possibilità più che altro volevo gael perché abbiamo facilità di trovare target contro di lui però non importa questa sarebbe stata buona per inventare il kikimora snowball ma alla brutta abbiamo questa da 4 che non è così tragica voglio dire tanto vediamo cosa fa se parte di kikimora abbiamo risposta se non parte di kikimora mettiamo la cron summon in circle è perfetto anzi è più che perfetto ci dà il turno per fare questa quella lì è più che accettabile quindi cominciamo a setappare i target dopo per la nostra crimson course facciamo così abbiamo ancora la possibilità adesso di fare literal avendo la dominance purtroppo spaccheremo la 1 ma sti cazzi tanto comunque morirà in qualche modo lo stesso ok quindi facciamo così e ci evitiamo che ci entri un un brown warrior dal nulla purtroppo questi contro la casquina sono un po' sacrificati ma d'altra parte ah questa è una scelta più che interessante abbiamo il target per Geralt non il target che volevamo a questo punto direi che possiamo mettere un vampiro davanti si quindi abbiamo 5 turni di crimson course possiamo utilizzare la crimson course direttamente su neutral a questo punto se no possiamo utilizzarla qua recuperarla 2 adesso vediamo però perderemo un punto di crimson course quindi in realtà perdiamo comunque un punto in meno qua perché utilizziamo 4 interessante va bene abbiamo due vampiri dietro uno davanti quindi virtualmente lui può denaiare la crimson course solo davanti utilizzando parassita o fulvio queste merdate qui poco importa possiamo cominciare a sviluppare questa mettiamo questa qua sopra lui è costretto a giocare a rimuovere adesso altrimenti la mia course prende troppa value quella è noiosina però è accio e riacentabile perché se si mangia la 9 sappiamo che ha renew in mano se no sappiamo che se si tiene le charge non si tiene le charge quindi non ha deadlaph in mano questa è un'altra cosa interessante noi non abbiamo alcuna fretta in realtà quindi Lady Orianna qua dietro andiamo a mettere questa qui mettiamo questa qui e direi che possiamo anche bliddare tipo questa qua così questo qua così visto che tanto manca le carte ci teniamo le charge per dopo noi qua passiamo un bel po' avanti perché non solo passiamo avanti virtualmente già con i punti che abbiamo ma prendiamo anche un bel più 4 garantito anzi un più 2 garantito barra più 4 questo è ok non ce ne frega più troppo in realtà si va bene quindi noi possiamo prendere Gale sicuro probabilmente prenderemo Gale oppure l'alp adesso vediamo intanto facciamo così mettiamo il vending qua e diamo 4 4 4 5 6 6 danni scusate perché purtroppo è l'unico target su cui effettivamente noi possiamo andare ad effettuare questi 6 danni ok questo era circa calcolato non aspettavo più Renew ma è ok comunque non va troppo lontano ovunque siamo comunque avanti noi anche se finisce il game adesso quindi diamo bleeding a questo signore direi che possiamo giocare Gale adesso uccidere questo abbiamo anche un Geralt da un 17 di sopra che voglio dire questo è uno dei nostri matchup peggiori virtualmente quindi in realtà non siamo a giocare what ah che stessi e ora gli facciamo vedere che è l'alt che mette fino all'ossilità quindi bleeding inutile qui sopra e un bel l'oralt da 20 qua sopra che mi sembra che male non faccia che